Ma eccoci finalmente a Mosca e la nostra visita accompagnati da una simpatica guida non può iniziare che dalla piazza rossa. La soltuosa cattedrale con le sue cupore di zarra fu costruita in soli cinque anni tra il 1555 e il 1560. Non manchiamo una visita ai grandi magazzini GUM, una specie di rinascente di Mosca dove se hai dollari o anche euro puoi comprare di tutto. L'ermitage, di gran lunga il museo più famoso di San Pietroburgo, è situato nel palazzo d'inverno che fino alla rivoluzione era l'abitazione imperiale degli zar. Ci portiamo adesso nel golfo di Finlandia a visitare Petrod Borek. Grazie.